Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La Fiorentina dopo il pareggio di Genova contro la Samp ospita domani alle 18 la spalla dell'ex Leonardo Semplici Al tecnico Viola Stefano Pioli che alle 15 presenterà il match di conferenza stampa non è andato giù il calendario di questa ultima settimana per i tanti impegni ravvicinati e per la scelta di anticipare a sabato e martedì le due sfide contro la squadra di Ferrara e l'Inter Pioli che molto probabilmente schiererà ancora Marco Piazza nel tridente antispal e potrebbe effettuare un mini turnover in vista dell'intrasettimanale a San Siro Dall'altra parte ancora una gara emozionante per Leonardo Semplici che ritorna nella sua Firenze dopo gli applausi della Fiesole nel pareggio della scorsa stagione Intanto sul fronte mercato cresce l'intesa di rinnovo tra la Fiorentina e il ciolito Simeone possibili novità nelle prossime settimane Da un bomber che continua ad uno che lascia l'ex viola Alberto Gilardino abbandona il calcio giocato e comincia a studiare da allenatore a Coverciano Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola